Ad Agropoli è tempo di buona raccolta. Sono i nostri figli ad indicarcelo. Voliamo verso un futuro migliore. È stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nell'Aula Consiliare del Comune di Agropoli la campagna di sensibilizzazione per le nuove modalità di raccolta differenziata che diverranno operative a partire dal 1 aprile 2019. Sono state presentate le azioni e gli strumenti della campagna per informare le utenze in merito al nuovo servizio di raccolta differenziata e i relativi obiettivi da raggiungere in termini di percentuali avviate a riciclo. Voliamo verso un futuro migliore. Questo è il messaggio centrale della campagna rivolta alla cittadinanza dal Comune di Agropoli e dalla Sarim SRL, gestore del servizio di igiene urbana sul territorio comunale. In questo primo anno di attività e di collaborazione con la Sarim penso siamo riusciti ad ottenere un elevato livello di servizio. Voi non trovate assolutamente buste per le strade, avete verificato come il taglio dell'erba si è implementato anche nel periodo invernale quindi abbiamo dato credo la sensazione realmente di una città pulita ed ordinata. Quindi il primo obiettivo è quello di dare una città pulita ai cittadini e ai turisti quando verranno è stato raggiunto. Ora dobbiamo organizzare meglio però il servizio in sé, nel senso che è vero che ora le buste le togliamo ma ora le buste dobbiamo metterci il giusto materiale all'interno per migliorare la qualità della raccolta. E questo è l'unico sistema per ottenere il duplice risultato che noi ci poniamo. Il primo è quello della difesa dell'ambiente, facendo una buona raccolta differenziata riusciamo a riciclare i materiali e non perderli. Quindi questo è il primo obiettivo. Il secondo, quello di lungo periodo, è che se noi miglioriamo realmente la qualità del prodotto che andiamo a determinare facendo una raccolta differenziata riusciremo nel lungo periodo anche a risparmiare qualcosina per quel che riguarda lo smaltimento e quindi a cascata potremmo avere un risparmio sulle bollette. Ma non ci sono alternative, bisogna assolutamente migliorare la qualità del prodotto. Quindi non solo mettere la bottiglia giusta nel giusto sacchetto ma anche togliere il tappo dalla bottiglia. Questo esempio banale serve a capire che non è sufficiente soltanto mettere la giusta busta ma seguire bene le indicazioni che noi daremo in questa campagna per avere un prodotto finale di qualità che possa poi essere rimesso sul mercato. Questo è l'obiettivo che abbiamo, questo è quello che ci poniamo. Naturalmente se nella prima fase quest'anno è stata responsabilità soltanto nostra quella di tagliare bene l'erba, di raccogliere bene i rifiuti per non far trovare buste al visitatore che ci farà trovare, per quel che riguarda invece la qualità del materiale che sta nella busta qui dobbiamo chiedere per forza la collaborazione dei cittadini. Questa è una cosa che non possiamo fare noi, quindi un cittadino deve sentirsi responsabilizzato rispetto a questo obiettivo e deve mettere il giusto prodotto all'interno. Qui dobbiamo per forza chiedervi aiuto e ve lo chiediamo per i motivi che vi ho detto. Naturalmente l'aspettativa è non arrivare mai in una fase sanzionatoria perché poi se non riusciamo a ottenere i risultati che speriamo in una seconda fase saremmo stretto anche a fare le sanzioni per chi non fa bene la raccolta ma questa è una cosa a cui non ci vogliamo arrivare. Lungi da noi immaginare di fare sanzioni ai nostri cittadini perché fanno male alla raccolta perché io credo che con la Gabbani e con l'Ebbino di tutti arriveremo a risultati che speriamo senza necessità di sanzionare nessuno.